Seconda parte della nostra rassegna stampa di questa mattina per parlarvi di sport dalle pagine del Corriere dell'Umbria in apertura la Sir nel guado di due Final Four, Coppa Italia a quarti di finale, Bernardi vuole la quindicesima vittoria di fila, ma occhio Bomber Hernandez, re degli ace, ci penserà Podrascanin super a muro, si chiede il Corriere. Questa sera alle 20.30 a compiacenza c'è il visto per la del Monte Cup, mentre ormai è un passo quella di Champions, e ancora per lo sport dal Corriere il Grifor in forza le ali, c'è Terrani per l'attacco pressing su Rodriguez del Cesena con Bianchi che potrebbe andare da Camplona, attesa la firma dell'esterno prelevato dalla Lucchese, retroscena su Scozzarella, offerte al Trapani 150.000 euro dai siciliani, nessuna comunicazione sul rilancio del Parma. Siamo alla Ternana, triplice frenata per Clayton, Lodi e Insigne, sempre più vicini invece agli ingaggi di D'Urso e Monachello, in ribasso Cocco, i timori del DS sul penultimo posto che rallenterebbe le trattative in entrata confermate dai fatti. Siamo a Gubbio, mercato da chiarire, dopo l'addio di Ferrari torna di modo a Guidone che sembra in uscita da Reggio dove il DS Grammatica però al momento frena, sempre in lizza anche Cianci. Intanto Ferrimarini alza la sticella delle ambizioni, ma quale salvezza? E mi piace il 4-3-3. Foligno, tifosi infuriati, basta con favori e cecità, manifestazione indetta per sabato, intanto il sindaco va avanti con il suo progetto, nel frattempo la squadra prende il centrocampista Imperatrice, c'è un lutto nel mondo dello sport a Città di Castello, addio a Marcello Ortalli, Città di Castello perde un'altra figura storica, domani funerali alla Madonna delle Grazie. E ancora Medielef Sansepolcro, Sansecondo per il dopo Farinelli, Cia Burzigotti in Pol, risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico, oggi un incontro decisivo con il DS. E ancora per il calcio giovanile, a volte ritornano Mercai, Castel del Piano, il personaggio Silvio sull'esperienza Foligno Dic, in campo il ricordo è positivo, che gioia, il gol al debutto. Sono contento, anche se a Petrignano è andata male, ma ci rifaremo. E per quanto riguarda il volley, Filippo Giustini, l'impresa del figlio d'Arta, a 16 anni, 45 punti contro il Città di Castello, suo padre Roberto faceva parte della prima squadra, Spoletina in A1, la Olio Venturi di Pittera. E per lo sport andiamo alle pagine della Nazione, Grifo, attacco, intanto firma Terrani, il club bianco-rosso ha trovato l'accordo con l'esterno offensivo della Lucchese, a Terni, Ternana, mercato difficile, a Venatti verso il Cagliari, Salernitana e Cremonese, su Meccariello. Per la Lega Pro, Gubbio, Romano e Reista, credo nel progetto, summit tra società e tecnico. Per la promozione, la capolista Lera frena ancora nel girone B, comanda il Cannara, bene il Todi. Spoleto se la cava benissimo, la leader in eccellenza, stacca tutti con la tripletta del bomber Mario la cava, da qui il gioco di parole del titolo. E ancora per lo sport, Sir Safety, notte di Coppa Italia, gara unica per un posto in Final Four, questa sera alle 20.30 al Palevangelisti la sfida con Piacenza. Per il basket, Serie C femminile, Spoleto comincia l'anno con il botto, la squadra di Polino ristende, l'Umbertide per il volley, talenti in mostra, arrivo torto da Sisi, domenica ripartono le sedute di allenamento e c'è il programma. Andiamo al messaggero, il grifo non molla, Gucer, perso Scozzarella all'Austria, quel primo obiettivo, ma con Frosinone non è facile trattare, spunta l'ipotesi, Moretti del Latina, Bianchi non c'è dalla corte del Catania, il fratello procuratore, Rolando non scendere di categoria, aspetta qualcosa da E.B. Coppa Italia, Sir contro Piacenza, prova di maturità, Block Devils in campo dalle 20.30, a Podrascanin, ok per l'assalto alla Final Four e poi Città di Castello Calcio, addio al presidente Ortalli, i funerali si svolgeranno domani alle 14.30 nella chiesa della Madonna delle Grazie. Per quanto riguarda il Foligno, la Flaminia ha già pronto il ricorso antineve, il campo del blasone nelle foto dopo la nevicata di domenica e per concludere, come sempre, andiamo allo sport da Terni, Ternana, Clayton, Tentenna, il difensore del Crotone potrebbe essere il primo colpo delle pere e per definire l'accordo manca soltanto il consenso del calciatore. Si allontana invece Roberto Insigne, la società di Vialeardi starebbe sondando D'Urso del Latina, occhi puntati pure su Romizzi. Ed era questa l'ultima notizia di oggi della nostra rassegna stampa, l'informazione continua con TRG, con i nostri telegiornali della sera, ovviamente l'informazione in tempo reale sul nostro sito internet trgmedia.it che ci ricorda come ieri è stata l'ultima serata per l'albero di Natale più grande del mondo che si è spento e di questo ha parlato ieri il presidente degli alberaioli a TRG+. Dunque, dicevamo, aggiornamenti in tempo reale anche per quanto accadrà oggi sul nostro sito. Non mi resta che ringraziarvi per la vostra attenzione dalla redazione e dalla regia. Un buon proseguimento di giornata. Arrivederci. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS